Si sorride alla prima di campionato e questo è un'ottima notizia perché la Juve prevale per 3-0 ad Udine con una prestazione anche convincente, mi riferisco principalmente al primo tempo dove subito siamo andati in vantaggio con Chiesa tra l'altro Federico è stato anche l'uomo gare, si è visto che è ritornato in forma sui suoi livelli ma poi la Juve finalmente rispetto alla stagione scorsa ha avuto anche una aggressione verso l'avversario infatti siamo andati subito a raddoppiare su calcio di rigore con la trasformazione da parte di Vlaovic la Juventus è andata sul 3-0 con Rabiot ma devo anche dire che la squadra ha tenuto sempre l'avversario nel proprio metà campo per cui anche lì è andata bene da quel punto di vista la rivelazione è cambiasso sulla fascia sinistra, mi ha colpito molto questo calciatore che ha dimostrato subito una certa personalità dall'altra parte Weah invece forse è stato un pochino timido mi aspettavo qualcosina di più, poi si è fatto anche male, speriamo nulla di grave però mi aspettavo visto la sua velocità e si erano viste anche dalle prime uscite di precampionato qualcosa di più attivo da parte di Timothy che comunque ritengo che sia un ottimo profilo poi la Juve non ha corso praticamente nessun rischio, nessun pericolo dobbiamo dire anche la verità, abbiamo affrontato un avversario nettamente più indietro e con grandi e palesi difficoltà nella costruzione e nella manovra nel secondo tempo ovviamente siamo andati in gestione nessuno pretendeva di tenere l'acceleratore tirato non aveva nessun senso forzare quando si poteva anche rischiare di farsi male di perdere qualche calciatore forse abbiamo abbassato un po' troppo il ritmo ecco non era necessario forzare ma comunque cercare di più la profondità con l'inserimento dell'attaccante tra l'altro a Vlavice è stato annullato un gol sarebbe stata perfetta la prestazione di Dusan con due gol all'attivo oggi abbiamo visto un'altra Juve ma si era già capito dall'inizio del precampionato che sulla riaggressione sul possesso palla qualcosa effettivamente era cambiato ora vi pongo la domanda se i calciatori sono gli stessi e la guida tecnica è la stessa che cosa potrà mai essere cambiato? è arrivato Magnanelli in squadra che sta lavorando sulla parte tattica ha sicuramente migliorato quella che è la prestanza fisica dei calciatori e anche come ragionare sulla partita e voglio ben sperare che questo sia l'inizio di un nuovo percorso e deve durare ovviamente a medio-lungo termine anche perché a tutti quelli che già fanno le polemiche e scrivono cose senza senso noi abbiamo due anni che ci portiamo dietro di sofferenza di non gioco, di non proposta quindi questo è il primo tassello grazie a questa nuova tipologia di lavoro qualcosa finalmente è cambiato chiude del cuore un cielo a strisce capare e noi tornano a volare